Paolo, la cancel culture può riguardare anche i romanzi? Anche se è diventata di moda, diciamo così, proprio adesso, in questi ultimi anni, in realtà la tentazione di cancellare i romanzi, ma anche i testi di altro tipo, i libri, i film e addirittura i quadri, i dipinti, non è per niente una tentazione moderna o contemporanea. Pensiamo soltanto al periodo nazista in cui venne realizzata una mostra di arte degenerata che paradossalmente faceva vedere a tutti dei dipinti considerati perversi e che quindi andavano distrutti, prima di consegnarli per sempre all'oblio o magari alle case private dei gerarchi nazisti. Ma negli ultimi tempi è diventata di moda. Perché? Perché? Perché in qualche modo dagli Stati Uniti è cominciata una battaglia di distruzione e di cancellazione delle opere che contenevano degli elementi di razzismo. Qualche volta questa tendenza può perfino far sorridere, tipo per esempio quando vengono attaccate le favole, non lo so, addirittura è stato attaccato Dumbo, l'elefante dalle grandi orecchie, sono stati attaccati gli aristocatti, Peter Pan, eccetera, insomma molte fiabe sono state considerate razziste. A un certo punto un insegnante della Lawrence High School di Lawrence, appunto nel Massachusetts, negli Stati Uniti, aveva addirittura dichiarato orgogliosamente di aver rimosso l'Odissea dal curriculum degli studi. Perché naturalmente l'Odissea era ritenuta perlomeno razzista e comunque non abbastanza inclusiva. E poi immaginiamoci cosa avrà pensato questo insegnante del fatto che Penelope se ne stava a casa ad aspettare Ulisse che tornasse. Così come c'è il tentativo di far fuori, diciamo così, gli scrittori antichi, romani, greci, ma anche Shakespeare che indubbiamente presentano una società che non è la nostra. È ovvio che noi nella letteratura andiamo a pescare storie che non ci riguardano più direttamente dal punto di vista sociale, ma spesso ci riguardano direttamente dal punto di vista delle emozioni e delle sensazioni più profonde dell'uomo. Le storie raccontano qualcosa di archetipico e non importa tanto se siano più o meno politicamente corrette. Ma non c'è niente da fare. In ogni periodo storico arriverà qualcuno che dirà che la sua visione del mondo è più giusta e che la visione del mondo del passato non deve più esistere e quindi comincerà a togliere quello che non gli piace. È successo sempre e qualche volta, devo dire, succede attraverso le ideologie senza che nemmeno venga detto, senza che nemmeno ce ne accorgiamo. E bravissimi scrittori scompaiono semplicemente perché nessuno li pubblica più e nessuno li legge più, perché vengono considerati fuori tempo, fuori moda o appunto scorretti. Paolo, un romanzo deve essere politically correct? Questa idea del politically correct, come si dice oggi, è sicuramente l'idea più contraria all'arte che ci possa essere. Un artista non deve essere politically correct, proprio perché un artista tende ad essere universale. E cosa vuol dire essere universale? Vuol dire mettere in campo emozioni e scontri e conflitti e sensazioni che sono di tutte le epoche, non soltanto di un'epoca. Mentre invece la correttezza politica, proprio per il suo fatto di essere politica, corrisponde a una precisa visione della società, e cioè la società che in quel momento ritiene che sia corretto parlare di certe cose e che sia non corretto parlare di certe altre. Ma naturalmente se gli scrittori avessero fatto così durante la vita della letteratura, noi non avremmo mai avuto dei grandi capolavori, perché i capolavori spesso sono quelli che invece non sono affatto politically correct e portano proprio lo scompiglio nella società in cui vengono scritti, in cui vengono letti e in cui vengono accolti oppure rifiutati. Non è certo un'idea moderna, è questa del politically correct che lo scrittore deve seguire. È un'idea che tutte le epoche, tutte le culture e tutte le religioni hanno quasi sempre indicato. C'è un caso limite, un anno in cui in Francia due opere letterarie di grandissimo livello, Madame Bovary di Flaubert e i fiori del male di Baudelaire vennero entrambe processate per oscenità. Era il 1857, non mille anni fa. Paolo, ma secondo te in letteratura è giusto bestemmiare? Vediamo cosa significa bestemmiare allora, perché detto così bestemmiare significa tutto e niente. Significa non nominare il nome di Dio in vano. Ecco, è quello in vano il punto, perché è quello il peccato, quello di nominare il nome di Dio in vano. Se la mettiamo così, il più grande e famoso bestemmiatore della letteratura è stato Dante Alighieri, che nomina Dio costantemente nella sua opera, ma nessuno può dire che l'abbia nominato in vano. E quindi se tu lo nomini, ma non è stato nominato in vano, ma c'è un motivo profondo, perciò non bestemmi in realtà. Bestemmi, ma non fai il peccato di nominare il nome di Dio in vano. Anzi, chiami in causa Dio nelle cose degli uomini. La letteratura è piena di impregazioni, di parolacce e anche qualche volta di bestemmie. È un male, è un bene? Dipende sempre appunto da quell'in vano che c'è anche dentro ai dieci comandamenti. Se uno scrittore non ne può fare a meno, vuol dire che non è in vano. Poi sarà il gusto e anche le orecchie di chi ascolta, perché magari può essere offeso a decidere se leggere oppure no un certo testo. Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale. 351-877-9461 Radio Genius Se ti piace, metti mi piace.